Siamo in diretta sulla pagina Facebook, ospite l'avete visto, il questore di Pado, il dottor Antonio Smordone, stiamo parlando a 360 gradi di un anno di lavoro tra Pado e provincia della polizia padovana, definiamola così, che poi è la polizia di Stato. Abbiamo parlato di Domenico Giorgino, abbiamo sentito anche le intenzioni che avrebbe questore per cercare di evitare che questi dammi si ripetino. Voglio lasciare una pagina invece, purtroppo, dove lei sempre nella festa della polizia si è un po', non dico animato, ma un attimino ha detto la sua in maniera molto comprensibile a tutti per l'episodio che è capitato, che degli uomini suoi sono stati accusati di maltrattamento nei confronti di un ragazzo che l'avevano percorso e tant'altro che poi le versioni davvero sono contrastanti. Sì, io sono rimasto molto amareggiato, anche perché questo episodio segue un altro capitato qualche mese fa, quello proprio del ragazzo che per sfuggire a un controllo, un giovane spacciatore che per sfuggire a un controllo è scappato alla pattuglia, si è buttato nel canale, al Bassanello e anche lì è morto e dopo ho visto dei grandi titoli sul fatto che la polizia l'avrebbe annegato, comunque indotto a buttarsi o comunque picchiato. Naturalmente poi le testimonianze che erano uscite a caldo si sono rivelate tutte quante cose completamente infondate e anzi è stato ricostruito che i nostri agenti hanno provato a salvarlo, correndo lungo l'argine, allungandogli un ramo, pregandolo di aggrapparsi, ma lui se ne è andato ed è morto. Adesso c'è stato quest'altro episodio, ora io non vorrei sembrare colui che fa la difesa dei propri uomini a prescindere, no, perché qua tutti possono sbagliare e quindi anche i poliziotti possono sbagliare. Quello che è contesto è una ricostruzione spesso superficiale, frettolosa, che mi pare che mi risultanto ad alimentare la polemica, per la polemica, senza comprendere che si fanno dei danni, dei danni tremendi per quelli che sono coinvolti. In quest'ultimo caso il poliziotto coinvolto è un poliziotto conosciuto in tutta Padova per la sua professionalità, la sua capacità, il suo equilibrio, che fa un servizio antidroga da decenni, ha arrestato tantissime persone avendo il plauso di tutti. E allora mi chiedo, è possibile che una persona viene accusata e deve vedere la propria vicenda sul giornale, in prima pagina, per giorni e giorni, semplicemente perché un altro ha dato una versione diversa? Fermiamoci e aspettiamo eventualmente. Per carità, ripeto, io sono sicuro naturalmente di quello che dico nella correttezza del comportamento dei nostri e peraltro questo poliziotto ha riportato delle lesioni guaribili in 40 giorni. Voglio dire, questo già è un elemento, ma ce ne sono tanti elementi che dimostrano la correttezza del nostro comportamento. Ma a prescindere, appunto, ho detto, ripeto, quelle parole, ho detto ricostruzioni, rappresentazioni sconcertanti, non perché false sicuramente, perché può darsi che invece sono vere, ma perché appigliate sul nulla, sul nulla se non la dichiarazione di una persona che sta dall'altra parte, che è coinvolta, evidentemente, anche emotivamente. Quindi questo lo comprendo. Quindi facciamo fare il lavoro alla magistratura e dopo appunto valuteremo. Ma non sbattiamo le istituzioni in prima pagina in questo modo, perché se noi inoculiamo questo sentimento, questo veleno della sfiducia nei confronti delle istituzioni, non facciamo un buon servizio a nessuno. Non facciamo un buon servizio alla comunità. Quindi io, ecco, ho detto quelle parole, le ripeto adesso, perché vorrei invitare a una riflessione. Evitiamo di buttare fango addosso, a prescindere in modo così preventivo e a fare delle affermazioni, soprattutto in questi titoli terribili, così apodittiche. Questo onestamente non mi sta bene. Non va bene, anche perché poi riflettiamo anche sul fatto che questi ragazzi vanno motivati. Questi ragazzi scendono per strada, escono di servizio in pattuglia tutti i giorni, tutte le sere, tutte le notti e quindi poi motivarli tocca a me, tocca ai funzionari e ai dirigenti, dagli il coraggio di continuare a fare il proprio lavoro, di stare sereni e anche questo non è spesso. Sì, perché poi uno può anche dire ma chi me lo fa fare? Guardi, le porto un esempio che non è paragonabile. La settimana scorsa proprio stavo in macchina con mia moglie su una strada un po' secondaria, in quel momento non c'era nessuno. Davanti a noi c'era un ragazzo di colore in bicicletta che si è inciampato e ha fatto un capitombolo ed è caduto quasi al limite del fossato. Io l'ho superato, mi sono fermato con mia moglie e sono sceso per chiedere, però ero a distanza, capito, perché avevo paura che lui potesse fare qualcosa nei miei confronti. Non stesse male, allora gli continuavo a dire stai male, chiamiamo l'ambulanza, non chiamiamo, posso andare via, non posso andare via, perché se non lo segui passi per uno che va via per la tua strada e sei soggetto a dei comportamenti che potrebbero essere puniti. Se ti fermi pensano che sarebbe uguale anche in quel caso lì, cioè è difficile trovare una soluzione perché oggi il mondo è completamente cambiato anche sotto questo punto di vista, non c'è una credibilità più nei confronti di nessuno e questo porta purtroppo al ragionamento che lei ha fatto e che condivido sicuramente sotto tutti i punti di vista, perché proprio è così, al di là che poi qualche episodio può anche capitare. Certamente sì, è capitato e può capitare, sì. Senti, adesso andiamo invece nei problemi della città. L'ordine pubblico qui a Padova com'è? Guardi, insomma noi riusciamo a garantire una situazione abbastanza serena, anzi posso dire serena, abbiamo vissuto fino a qualche mese fa, sei mesi fa un particolare attivismo di movimenti Novax che effettivamente hanno inciso molto sulla regolarità della vita cittadina con cortei, molto molto partecipati perché questa situazione si è via via decantata. Adesso se devo dire quali sono i temi da cui possono provenire, potrebbero ponere problemi sull'ordine pubblico, vedo il tema della conflittualità tra opposte fazioni politiche, perché come dicevamo all'inizio sta crescendo piccoli segnali, scaramucce, manifesti scritte da una parte e dall'altra, accuse da una parte e dall'altra. Il tema della casa, che è un grande tema molto delicato perché dalle carenze alloggiative sono sempre derivati problemi, a Padova anche come in altri contesti e non dimentichiamo che questa è una città universitaria e secondo me l'università è veramente una delle eccellenze e dà un valore aggiunto a tutta la città e la provincia di Padova. Sta crescendo molto, probabilmente tutto il contesto al momento non è all'altezza della crescita dell'università, intendo dire appunto carenze nel sistema alloggiativo, carenze che possono verificarsi anche nella fruizione dei servizi in genere per questi ragazzi che vivono qua, perché sono più di 70 mila gli studenti, la maggior parte sono fuori sede. Ecco, qualche disequilibrio si potrebbe creare, quindi qualche avvisaglia di questo tipo lo abbiamo avuta, c'è un problema di caro abitazioni, c'è il problema dell'ambiente, pure l'abbiamo già citato. C'è il problema di gente più povera. E c'è un disequilibrio che può crescere, sì. Senta, poi attraverso il ragionamento che lei faceva per quanto riguarda l'università ovviamente che bisognerebbe avere più alloggi perché sicuramente però diventa complicato perché l'alloggio diventa un problema della regione, l'università diventa un problema e quindi questo problema può ripercuotersi sulla vita sociale di una padova che ha 208 mila abitanti, in effetti, veramente. Però giornalmente tra l'università e l'azienda ospedaliera ne girano più o meno più di 400 mila, non dico che è una città metropolitana, ma siamo una città importante sotto questi punti di vista. E' proprio questo quello che io osservo, una città metropolitana ma comunque di medie dimensioni su cui impatta un circuito universitario che non dico come quello di Bologna, ma insomma ci stiamo avvicinando, per cui ecco è qui che le istituzioni, la politica... E' la città più importante di Padova sotto l'aspetto bilancio, insomma. Deve lavorare per farla crescere ancora di più, tutti devono lavorare perché l'università deve crescere sempre di più in modo relazionato con la crescita di tutta la città, ecco quello è il concetto secondo me, ma io credo che ci si riuscirà perché poi ecco ci sono istituzioni all'altezza e anche un buon affiatamento tra le istituzioni. Senta, e crescono anche dei mini, come si chiamano i ragazzi che si scazzottano in tutte le varie parti, non della città ma anche della provincia, cosa si può fare in merito? Eh lì è solo la prevenzione, la prevenzione sociale, la prevenzione educativa, culturale che può fare qualcosa, sono veramente giovanissimi, sono ragazzini minorenni tutti, ma addirittura a certe volte 13-14 anni, insomma. Il fenomeno l'abbiamo infrenato, io spero adesso di non essere smentito dai fatti in futuro, ma se ricordiamo un anno fa abbiamo avuto delle risse anche con qualche coltello. Poi è andata meglio perché siamo intervenuti di impatto e qui appunto con un coordinamento anche in sede prefettizia e abbiamo deciso di procedere ad identificazioni di questi giovani di massa per così dire, quando arrivavano a Padova, quando se ne andavano da Padova, quando si concentravano. Abbiamo fatto una, d'accordo anche con la procura dei minori, una cernida di quelli che sembravano a rischio per frequentazioni, per qualche piccolo precedente eccetera e questi casi a rischio li abbiamo anche seguiti anche attraverso i servizi sociali. Mi pare di poter dire che siamo andati meglio, ecco quei fenomeni delle risse che stavano diventando preoccupanti in Prato della Valle e anche al Duomo non si sono ripetuti al momento. Qualche litigio si verifica, ma è fisiologico, ma sono litigi tra persone, credo anche qualche giorno fa ne è capitato uno, ma appunto fisiologico. Andiamo in pubblicità.